E' una prestigiosa e attesa conferma quella che ha raggiunto la Banca Montepruno nell'ambito della pubblicazione della nuova edizione dell'Atlante delle Banche Leader 2022, redatta dall'autorevole rivista di settore Milano Finanza. L'Atlante 2022 pone la Banca Montepruno per il secondo anno consecutivo al vertice della classifica regionale. Generando un MF Index pari a 7,14, la BCC Montepruno si ripropone in cima alla graduatoria, confermandosi un'eccellenza nel mercato bancario nazionale. Nello specifico l'indice è tenuto in considerazione coniuga dimensioni e risultati con l'obiettivo di individuare gli istituti che hanno saputo abbinare allo sviluppo della massa amministrata la capacità di fare casse e generare profitti, attraverso la ponderazione di una serie di valori, tra cui massa amministrata, cash flow e indice di redditività. Il 7,14 è un punteggio prestigioso che conferma la grande capacità dell'Istituto di Credito Cooperativo di raggiungere per l'ennesima volta i primi posti nelle classifiche di settore. Un altro dato molto interessante si evince dalla lettura approfondita dell'Atlante delle Banche 2022, che impreziosisce ancora di più le dinamiche economiche della Banca Montepruno. Se nella rilevazione 2021 la Banca Montepruno aveva generato un indice di redditività tra i primi dieci, a livello nazionale quest'anno il Return Index, indice di redditività per l'appunto al 7,75, è il secondo in Italia, tra le eccellenze posizionate al primo posto nelle singole graduatorie regionali. Iniziamo, ha commentato il Direttore Generale della Banca Montepruno Michele Albanese questo nuovo esercizio con una grandissima conferma. Essere la migliore banca della Regione Campania per il secondo anno consecutivo ci lusinga e gratifica enormemente il nostro operato. In questo momento così bello è giusto ringraziare per il supporto costante la nostra capogruppo Cassa Centrale, sempre attenta e vicina alle nostre necessità. Come evidenziato nei numeri non si tratta di un esploit, di una performance saltuaria, ma di un percorso di crescita costante che poggia le sue basi su solidi valori economici e reddituali. È un risultato straordinario, rimarca il Direttore Albanese, perché ci proietta nel nuovo anno, trasmettendoci grandi motivazioni per fare di più e meglio, garantendo sostegno alla nostra comunità. La soddisfazione di essere un'eccellenza ci emoziona particolarmente, ma ci impone, termina albanese, di proseguire sulla nostra strada con responsabilità, equilibrio, spirito di servizio e tanto umiltà.